un selfie signore faccio così vai signore forza ragazzi ragazzi non c'abbiamo i big money fai vedere i tuoi big money money va bene la prova a binizio coglione intanto me ne mangio una dai vabbè guarda ce ne sono altre 800 che cosa hai fatto? non mi voglio una sola è molto buona qua aspetta no prima si fa una testa bisogna dire se lo sai quando metti uno in bocca c'abbia bagno c'abbia bagno i liquidi eh ok troppo uno eh mi occupa tutta la bocca uno non bisogna mangiarli eh vabbè c'abbè bagno i liquidi c'abbè bagno i liquidi uno una due c'abbè bagno i liquidi due c'abbè bagno i liquidi è venuto da vomitare te lo giuro c'abbè bagno i liquidi è venuto da 7 ciappi mania la riquirizia 7 1 2 3 4 5 6 ultimo 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 6 7 5 6 5 6 7 9 9 9 10 12 12 ma non concludo ma che concludo mi mangio la foglia schifo ma no ma no ma se quante batterie batterie ci saranno vabbè io la batteria fan vabbè ragazzi non è stato molto divertente mi sa ora siamo con la prova con i cassonetti prova di parkour che cazzo è quello la ah 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 mica non si è girato eh non mi si è reggirato tu ma dove hai tu hai vai prova con parkour buona visione grazie a tutti grazie a tutti